Ben trovati a Dentro il Consiglio. Io ripercorreremo insieme una settimana di lavori dell'Aula del Consiglio regionale della Toscana. Un minuto di silenzio per ricordare le vittime sul lavoro sul lago di Suvieno e l'anniversario della tragedia della Mobi Prince, a chiederlo il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. La manovra è stata votata a maggioranza al Presidente della Giunta Eugenio Gianni e lussato il pacchetto degli emendamenti sul bilancio 2024-2026. Due appuntamenti, uno si è svolto il 10 aprile e l'altro si terrà il 23 aprile. Nell'occasione sarà consegnato il premio intitolato a Francesco Nuti, due serate dedicate al grande artista. Un minuto di silenzio per ricordare le vittime alla centrale idroelettica di Bargi e l'anniversario della tragedia della Mobi Prince, a chiederlo in apertura di seduta mercoledì 10 aprile il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. La tragedia della Mobi Prince, che in Rada a Livorno il 10 aprile del 1991, esattamente 33 anni fa, provocò 140 vittime. Io chiedo solo verità e giustizia per questi morti, ha ribadito il Presidente del Consiglio. È incredibile come in un Paese civile come il nostro non si sia riuscito a dare ancora una risposta alle famiglie delle donne, degli uomini morti nel più grande disastro della marineria commerciale italiana. Da anni lo chiediamo a gran voce. A volte si vedono dei passi in avanti, poi si ferma bene la commissione che è ripartita, ma le famiglie hanno bisogno di risposte concrete. L'armadio della memoria che noi abbiamo portato avanti e che continuiamo a far crescere serve a non dimenticare. Serve a dire che la Toscana non si volta dall'altra parte. Questo vale per quanto accaduto a Livorno, vale per quanto accaduto a Viareggio, dove le prime sentenze sono arrivate, vale per quello che è accaduto per la Costa Concordia. Credo che noi abbiamo la responsabilità oggi di esserci, di essere lì, di essere al fianco delle famiglie e delle vittime che ancora piangono i loro cari dopo 33 anni a cui non hanno avuto mai verità e giustizia che meritano. La seduta si è aperta con un minuto di raccoglimento che ha unito la tragedia dell'Emilia al ricordo di quello che è accaduto nella rada del porto di Livorno. È una strage che ancora chiede e pretende verità e giustizia. Il Consiglio regionale della Toscana ancora una volta ha ribadito il posizionamento, ovvero al fianco dei familiari delle vittime, fino a quando non sarà fatta piena luce su questa terribile vicenda. 33 anni dopo, famiglie, 140 famiglie, ancora attendono una risposta, la verità e la giustizia, su quello che è stato uno dei più grandi drammi che abbiamo vissuto negli scorsi decenni. Sicuramente uno dei più grandi di tutta la Toscana. Io credo che questa sia una ferita grave non soltanto per Livorno, per la Toscana, ma per tutta l'Italia. Perché l'attesa estenuante di questa verità e di questa giustizia che ancora oggi si negano, fondamentalmente crea grande sfiducia anche in quelle istituzioni che dovrebbero darla a queste famiglie, per la memoria di queste persone. Ancora oggi saremo a Livorno a dire mai più un dramma del genere e soprattutto verità e giustizia, di nuovo. Perché è l'unica cosa che può allenire, anche se solo minimamente, il dolore di questo dramma che diventa infinito e che ogni giorno che passa aggiunge soltanto attesa a quello che è la conclusione che invece tutti vorrebbero avere per far trovare pace e anche riposo alla memoria di queste persone che hanno perso la vita. È necessario mantenere alta l'attenzione su questa tragedia. Dopo 33 anni ancora a buio, per la prima volta la Camera dei Deputati, su iniziativa del Presidente Lorenzo Fontana, ci sarà la commemorazione delle vittime. E qui in Consiglio regionale la vicinanza alle famiglie delle vittime è stata manifestata nuovamente, però con grande senso di rammarico perché questa vicenda ancora non ha la verità. E questo è un dolore che si associa a quello delle vittime e di estrema vicinanza che noi esprimiamo alle famiglie. Approvata martedì 9 aprile con voto di maggioranza la prima variazione al bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Toscana che recepisce gli emendamenti proposti dal Presidente della Giunta, Eugenio Gianni, in Commissione Bilancio. La manovra prevede uno stanziamento che per il 2024 è di oltre 21.355.000 euro per il 2025, di un milione di euro e per il 2026 di 189.000 euro. Sulla manovra hanno votato a favore Partito Democratico e Italia Viva, Contrari invece, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, mentre il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto. Una variazione di bilancio, quella licenziata dal Consiglio regionale toscano, che si muove lungo tre direttrici e persegue tre obiettivi principali. Da una parte, l'obiettivo primario è sicuramente quello di contribuire al riequilibrio economico del servizio sanitario regionale. Una misura importante che viene affrontata, soprattutto attraverso la destinazione di una quota importante dell'addizionale regionale dell'IRPEF, proprio al tema della sanità e del risarimento dei bilanci della sanità della Toscana, a cui si vanno ad aggiungere anche altre risorse, come ad esempio quelle derivanti dagli accantonamenti che la Regione Toscana ha posto in essere per affrontare le cosiddette lettere di patronage a favore di cassa, depositi e prestiti, che invece divengono esigibili già in questa fase, consentendo quindi un ulteriore stanziamento di quasi 38 milioni di euro. Una variazione bilancio positiva, le modifiche apportate e richieste dal governatore sono tutte più che ragionevoli, a partire da quello che riguarda i nostri forestali, a partire da quello che riguarda l'aiuto ai comuni, a partire da quello che riguarda invece, e la consideriamo due vittorie, i fondi per evadere le richieste di supporto nelle famiglie che hanno figli disabili, soprattutto affetti d'autismo, e il fatto che ABBA venga per sua direttiva ancora riconosciuta là dove fino ad oggi questo tipo di servizio veniva offerto alle famiglie e ne facevano richiesta. Trovo che sia stato uno sforzo importante da parte del Consiglio regionale, ma soprattutto da parte della Giunta e del Governatore, che si sono resi conto di quanto fossero necessarie queste risorse che noi non potevamo che sostenere. È una variazione di bilancio che in realtà ripropone un tema ormai sollevato da tempo dalle opposizioni, una totale assenza di programmazione, uno sforzo finanziario come quello che è stato richiesto ai cittadini toscani con l'aumento dell'IRPEF che doveva servire a, diciamo, ricuscire quello che era stato lo squilibrio del bilancio della sanità. In realtà oggi assistiamo nuovamente ad un bilancio che ci viene portato a un'aula in fretta e furia con degli emendamenti che ci sono stati illustrati stamattina e che di fatto però nulla sposta rispetto al tema centrale che è quello della programmazione e della razionalizzazione della spesa sanitaria. Sono stati ancora una volta fatti degli interventi estemporanei, non c'è un filo conduttore sulla programmazione, si illustra una sorta di razionalizzazione della spesa sanitaria ma senza saperne esattamente il contenuto. In poche parole, quello sforzo che era stato chiesto appunto ai cittadini toscani con l'aumento dell'IRPEF oggi non riusciamo francamente a comprendere che tipo di contributo potrà dare alla ristrutturazione del bilancio della sanità. La Lega vota contro questa prima variazione di bilancio che era stata inizialmente presentata come un mero accertamento dei conti e che invece ha visto ancora una volta arrivare in aula al di là delle dichiarazioni in commissione di Gianni una serie di emendamenti. Al di là del merito occorre individuare sicuramente una mancanza di programmazione e a volte una difficoltà di interlocuzione corretta con l'opposizione. Faccio notare per esempio che ci sono 8 milioni per la cultura dei quali avevo chiesto scheda analitica ormai da due sedute di commissione fa e che ancora praticamente non mi è arrivata. C'è uno storno per quanto riguarda i costi della sanità. Sappiamo che sono state aumentate le tasse dei toscani addizionali IRPEF per circa 200 milioni e 10 milioni erano state destinate all'alluvione 190 milioni invece erano stati destinati appunto per coprire i buchi della sanità. Di questi 190 milioni abbiamo visto che c'è stato un accertamento di 168 milioni quindi 22 milioni che si potranno spendere in modo differente. Di certo siamo in attesa del provvedimento della Corte Costituzionale per quanto riguarda il payback una data capestro quella del 22 maggio ma per far sì che vi possa essere una gestione oculata della spesa ci vuole programmazione e ci vuole anche una visione nuova di modello socio-sanitario perché noi siamo per una sanità pubblica ma siamo anche per una sanità efficiente e funzionale. La situazione economica di questa giunta e dei suoi bilanci è drammatica soprattutto sul versante della sanità e questa variazione sulla quale c'erano molte aspettative per superare delle difficoltà strutturali appunto della sanità ma non solo ha deluso. Ma la cosa più grave è che siamo arrivati di nuovo all'ultimo momento a presentare emendamenti anche molto importanti come la copertura di tutto il 2023 per le famiglie con migliori e con disabilità con un emendamento appunto presentato in aula nel momento stesso dal Presidente Gianni. Mentre invece si sono andate poi di nuovo a coprire tante altre voci di bilancio di cui probabilmente si può fare a meno che possono essere finanziate negli anni successivi come ad esempio il campo da golf del Casentino piuttosto che altre iniziative che appaiono essere molto più spot. Non abbiamo votato pur votando favorevolmente a quegli emendamenti che secondo noi sono il minimo indispensabile ma ancora non si ha la stabilizzazione finanziaria di misure come vita indipendente le misure per i minori disabili e per le loro famiglie e altre misure, altre strutture che aspettano da molti anni di essere finanziate ma probabilmente hanno il torto di vivere di essere stanziate in aree che probabilmente dal punto di vista elettorale in questo momento fanno meno gola. Variazioni di bilancio allora scorrendo il lungo elenco delle sovvenzioni e delle variazioni che ci sono state a me mi sembrano tante marchette politiche lo dico chiaramente guardando in camera perché guarda caso ci sono tanti soldi che vengono erogati a dei territori che vanno al vuoto per cui probabilmente è il gioco della politica non mi piace non so se lo faremmo anche noi se ci fossimo in maggioranza ad oggi posso soltanto dire che sono contrario a quello che succede fatto da questa maggioranza. Due serate dedicate a Francesco Nuti per ricordarne la figura e l'opera cinematografica il 10 aprile proiettato il film Casablanca Casablanca del 1985 il secondo appuntamento martedì 23 aprile con il film Stegati del 1986 e nell'occasione sarà consegnato ad artisti dello spettacolo il premio istituito da Ginevra Nuti un manufatto ispirato ad un'opera pittorica proprio di Francesco Nuti tra i premati Claudio Bisio In questo premio si vuole raccontare quanta arte quanta bellezza è riuscita a trasmetterci Francesco negli anni della sua carriera e quanto oggi sia ancora nel cuore di tante Toscane e di tanti Toscani sono certo che saranno due eventi unici che si ricorderanno per tanto tempo e sarà un modo per dirgli grazie un momento importante perché per Francesco Nuti non è mai abbastanza è stato uno dei più grandi forse registi che ha caratterizzato proprio un periodo preciso del cinema italiano della comicità e non solo della comicità ma della commedia e ha fatto strada a tanti grandi registi di adesso che non si tirano mai indietro quando si fa il nome Francesco Nuti e si ha voglia di ricordarlo per la sua grandezza come artista per la sua profondità umana e per tutta l'eredità che ci ha lasciato sono molto grata alle istituzioni nella persona del presidente Antonio Mazzeo del Consiglio regionale della Toscana e del presidente Eugenio Gianni della regione toscana per aver abbracciato questa bella progettualità che stiamo portando avanti con grande soddisfazione non solo per gli artisti che abbiamo in calendario quindi il 10 ci saranno Sabrina Ferilli e Claudio Bisio e sono molto onorata perché proprio ieri sono uscite le candidature dei David e Claudio con la sua prima opera dell'anno scorso è nella sezione David Giovani che è una nuova sezione istituita quest'anno e verranno premiati direttamente dai giovani ragazzi era diverso tempo dopo la scomparsa di Francesco che con Ginevra con sua figlia si pensava di istituire diciamo un premio a suo nome e quindi poi quando abbiamo saputo di questa rassegna che si doveva fare qui a Firenze abbiamo pensato che fosse l'occasione giusta per istituire il premio sperando che poi di portarlo avanti anche negli anni a venire Questa è in estrema sintesi una settimana di consiglio regionale per stare però sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni c'è una pagina la state già seguendo lo so è www.inconsiglio.it www.inconsiglio.it